È stato l'atleta di Dio, un Papa che ha amato la vita. Se tu vivi con i giovani, dovrai diventare anche giovane. Nella montagna i silenzi sono stati dei compagni di vita di Papa Voitila. E che ha insegnato al mondo quale può essere il valore della sofferenza. Questa umanità, questa sua trasparenza, secondo me sono state delle armi potentissime. Nove racconta I Grandi Papi, Giovanni Paolo II. Giovedì alle 21.25 sul 9.